Ci sarà anche Giorgia Meloni sabato 28 ottobre all'apertura della 58esima Fiera del Tartufo Bianco di Acqualagna. La Premier arriva nella città di Enrico Mattei, storico fondatore dell'ENI, già preso ad esempio dalla Presidente del Consiglio per l'omonimo Piano per l'Africa formulato dalla stessa Meloni un anno fa. La visita ad Acqualagna alla presenza del Governatore Acquaroli porterà con sé l'ufficializzazione dell'Accordo di coesione fra le Marche Palazzo Chigi, un accordo che sarà firmato anche alla presenza del Ministro Raffaele Fitto. Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è un fondo nazionale in cui vengono attuate politiche e investimenti che tentano di riallineare gli squilibri economici e sociali fra i territori. Le Marche saranno la seconda regione a beneficiare di questo accordo dopo la Liguria. La regione di Toti beneficiò di 265 milioni di euro, le Marche ne riceverà una cifra superiore, 330 milioni soprattutto destinati ad opere infrastrutturali strategiche di carattere interregionale che spazieranno da strade ad ospedali. Una notizia positiva per le Marche ed una visita che colma d'orgoglio Acqualagna e la sua fiera alle prese con l'organizzazione e le misure di sicurezza di una visita che dovrebbe svolgersi nella tarda mattinata di sabato.